Il momento della verità è arrivato, è il momento della degustazione, della fase in cui il vino va degustato. Questa analisi degustativa, così chiamata, è il contatto vero con la materia vino. È con la lingua che noi scopriamo i sapori del vino. Nella parte profonda, centrale della lingua, avremo il gusto in risalto, le papille gustative della nostra lingua ci faranno sentire il sapore amaro del vino. Nella parte centrale, laterale della lingua, sentiremo le sensazioni acide del vino. Nella parte più vicina alla punta, quindi nella parte laterale della punta della lingua, le papille gustative scoprono la sapidità di un vino, perché un vino può essere anche sapido. Nella parte centrale, invece, la punta, sentiamo la dolcezza del vino. È con le nostre papille gustative, quindi, che scopriamo effettivamente questi quattro sapori del vino. Quindi, dolce, sapido, acido e amaro. Nella degustazione vera, queste quattro componenti saranno il risultato per far sì che un vino abbia l'equilibrio e la bontà per essere consumato. Questa è un'analisi molto tecnica. In realtà, il vino deve piacere e deve essere consumato con semplicità. I sapori del vino veri si sentono comunque in un determinato modo. La degustazione avviene in due momenti. Il primo momento è quello del primo sorso, quindi del sorso in cui il vino viene messo in bocca per pulire la nostra bocca e per preparare le nostre papille gustative. Nel secondo sorso, dobbiamo cercare di far arrivare il vino nella sua totalità all'interno della nostra bocca, su tutta la nostra lingua. Questo momento è un momento anche riflessivo. Noi dobbiamo concentrarci nel momento in cui degustiamo un vino. Questa concentrazione passa dalla lingua, dal naso e dal cervello. Tutte le cose che il vino vuole esprimere, piano piano, devono essere un risultato di piacevolezza e di sensazioni. Queste sensazioni le andiamo a scoprire piano piano.